Tutto come da pronostico, il paterno vince abbastanza agevolmente e porta a casa tre punti che per i marsicani significano salvezza praticamente sicura. 3-1 il punteggio finale, ma il paterno avrebbe potuto incrementare le reti se solo avesse messo a segno qualcuna delle tante occasioni che la partita ha offerto. Le formazioni sono quelle annunciate, con gli ospiti che salvo qualche eccezione mandano in campo tantissimi under. Avvio di marca locale e al sesto dalla battuta del primo angolo i nerazzurri potrebbero passare, ma l'invito non viene sfruttato adeguatamente. Passano due minuti e Mastroianni mette in azione Cordischi che poi offre a Di Virgilio la conclusione aerea che la punta conclude però contro la traversa. Al quarto d'ora il paterno passa in vantaggio. L'azione l'avvia Cordischi, rilevato successivamente da Mastroianni, e sul pallone che torna indietro si inserisce Sassarini che carica il destro e fa secco Cannella con una traiettoria assolutamente imparabile. Il Martinsicuro è alle corde, cinque minuti più tardi Cordischi riceve da Di Virgilio, ma alza troppo la mira e tutto sfuma. Ventitresimo, finalmente si vede anche il Martinsicuro con un tentativo di Giorgi abbastanza velleitario e questo è tutto quanto riesca a proporre la formazione teramana per quasi 40 minuti. Poi l'arbitro prima assegna un calcio di rigore al paterno per atterramento in area di Di Virgilio e poi si rimangia la decisione. E passiamo al ventisettesimo quando Cordischi offre a Mastroianni che in area controlla e calce in diagonale, ma la sfera termina al lato. Trentottesimo, Pizzi si accentra e tira, obbligando Ranalletta al volo laterale per evitare il peggio. L'ultima azione di una certa importanza nel primo tempo arriva al trentanovesimo, Albertazzi lungo per Di Virgilio che va sul fondo e invita alla conclusione Mastroianni che però deve fare ancora una volta i conti con la barra trasversale. E passiamo adesso a vedere cosa ha offerto la ripresa che si apre con il raddoppio del paterno dopo soli 20 secondi. Schipel vince un contrasto e crossa in area dove c'è Di Virgilio che si getta in tuffo e di testa supera imparabilmente l'incolpevole Cannella. Teramani alle corde e dopo altri due minuti arriva anche il 3-0. Mastroianni riceve da Conè e avanza, palla poi per Schipel che carica il destro e fa secco per la terza volta l'estremo Cannella. Adesso si gioca più per onore di firma che per altro e i nerazzurri concedono qualcosa al Martinsicuro che al ventitreesimo propone questa fuga sulla fascia di Pizzi che entra in area e costringe i difensori a rifugiarsi in calcio d'angolo. Tre minuti dopo accade che Ranalletta sbaglia il rinvio di piede servendo involontariamente Pizzi che ringrazia, carica il destro e insacca nella porta vuota. 3-1 è gara che quasi per incanto si rianima perché il Martinsicuro vuole provare ad agguantare un pareggio che ad inizio di ripresa sembrava una illusione. Poco dopo, la mezz'ora, Mastroianni si destreggia sulla tre quarti e va al tiro. La botta è violenta ma scarsamente precisa. Decisivo Ranalletta al quarantesimo con questa parata su Ciuti che in pratica riabilita il giovane numero uno per l'errore precedente. E per chiudere vi mostriamo questa fuga di Mastroianni che arriva anche al tiro ma si defila troppo e deve accontentarsi di colpire solo la base del palo. Quattro minuti di recupero e poi tutti a casa anche perché al comunale di Capistrello si è alzato un venticello gelido che consiglia di correre velocemente verso il tepore di un caminetto acceso. Arriva per primo Guido Di Fabio. Allora, commentare le partite del Martinsicuro quest'anno forse non ha senso, però ecco, commentare il futuro di questa società perché se Guido Di Fabio è rimasto al Martinsicuro dopo aver allenato squadre di tutt'altro spessore, insomma un motivo ci sarà pure. No, commenti li facciamo tranquillamente perché eravamo consapevoli di quello a cui andavamo incontro e quest'anno è stata fatta una politica di ragazzi che stanno crescendo, stanno dimastrando di partita in partita proprio la loro crescita. è normale che non è che potevamo fare di più perché questa crescita è stata molto graduale, però l'importante è avere sicuramente per l'anno prossimo un bagaglio di ragazzi veramente importanti che stanno facendo delle ottime cose e sicuramente l'anno prossimo faranno ancora meglio. Con che animo Guido Di Fabio, ripeto, che ha allenato squadre di alto spessore, si cala in queste realtà, cioè sapendo che ogni domenica è una sconfitta? No, mi ci calo perché io penso che la mia caratteristica più importante sia proprio l'umiltà. E poi è la squadra del mio paese e sinceramente è stato veramente, lo sarà fino alla fine emozionante allenare questi ragazzi perché sono delle spugne, imparano, li abbiamo messi in una realtà un po' troppo più grande della loro perché i ragazzi del 2001 e del 2002 quindi sono molto giovani, però sicuramente si sono fatte le ossa e ne troveranno vantaggi per il futuro. Chieti, San Buceto, Torrese, insomma sembrava tutto fatto? Non so i risultati, ha vinto il San Buceto o il Chieti? No, quando dice pareggio. Non lo so, vabbè Chieti sicuramente ha sei punti di vantaggio quindi è sicuramente la favorita, però questo campionato ci ha dimostrato più di una volta che non bisogna mai dare niente per scontato e giocarsi le partite tutte quante fino alla fine. Tonino Torta sotto la doccia, allora approfittiamo del presidente Angelo Di Gregorio, insomma un successo che avrebbe potuto essere molto più ampio, le occasioni ci sono state, però insomma sono tre punti importanti. Quello che conta sono i tre punti, la partita l'abbiamo vista tutti, il risultato doveva essere più corposo, però va bene così, anche perché i ragazzi di Martinsicuro ce l'hanno messa tutta e sono da apprezzarli come stanno facendo dignitosamente il loro campionato, quindi a noi servivano i tre punti, il resto le occasioni perse le riserviamo per la prossima volta. Senti, è il campionato che il paterno aveva preventivato questo qui? Assolutamente no, però adesso la situazione è questa, dobbiamo salvarci al più presto, ci siamo quasi, quindi dobbiamo insistere a fare qualche altro punticino e poi il prossimo anno si vedrà. Uno sguardo al futuro, visto che ormai mancano quattro partite alla fine. Ma il futuro è il momento che vogliamo programmare, dobbiamo smaltire un po' le fatiche di quest'anno, poi durante l'estate riposandoci un po' penseremo di riprogrammare meglio di quest'anno il futuro. Il prossimo anno qualcuno dice che potrebbero esserci quattro squadre addirittura marsicane in eccellenza, oltre al paterno al capistrello il Luco che sta salendo e l'Avezzano che sembra che non va. Certo fa piacere per l'Angisia Luco se viene in eccellenza, ma ormai c'è quasi, credo, dopo le partite di oggi. Dispiace se l'Avezzano non ce la fa, dispiace veramente perché la città di Avezzano merita è un campionato a livello nazionale, quindi speriamo che ce la farà in queste ultime partite, è chiaro, deve giocare al meglio.